buonasera sono sempre io Gianfranco Lombardi questa sera vorrei parlare mi sento onorato di questo in qualità di foggiano sono orgoglioso di esserlo per quando attiene e quando riguarda il calcio vorrei parlare della mitica partita della storica partita di Foggia Real Madrid disputata il 15 agosto del 1987 io c'ero avevo quindici anni più io sono del 72 e allora nell'87 qualcosa di allucinante una soddisfazione enorme come foggiano come persona vedere nella mia città Foggia dove ho vissuto 24 anni all'età di 15 anni giocare il grande Real Madrid dimmi questo qui guardi guardate guardate il grande Real Madrid quello di Mitchell Santiliana Butraquenio adesso ve lo faccio vedere meglio Mitchell Butraquenio Santiliana Gordilio perciò ecco mi sembra Bebeto non mi ricordo comunque vabbè comunque è quello più forte di tutti i tempi perciò motivo di invidia cioè Foggia ha potuto permettersi questo russo nella famosa Coppa d'Urum nel 1987 dove Casillo riuscì a portare a Foggia essendo molto amico di Ramon Mendoza allora presente del Real Madrid perché entrambi erano i giganti del grano in tutto il mondo il re del grano ma non solo quello grandi industriali industriali di una portata enorme due presenze molto ingombranti in quel casino e Ramon Mendoza ma non solo in quel campo per far capire cosa è stato Foggia nel calcio e anche l'importanza cioè di gente importante che ha operato a Foggia come piazza come a livello di imprenditoria come prestigio di storia Casillo è stato veramente un grande ha aiutato molto il Foggia a diventare ancora più importante in quel periodo dall'87 al 92 93 insieme all'avvocato Mauro Filinguerra Pavone che era il direttore sportivo insieme al secondo allenatore in seconda perciò i fratelli Casin insomma era questa cordata che ha portato il Foggia a certi livelli ha portato il Foggia proprio al top nella storia del Foggia a calcio nei 102 anni di storia insomma noi Foggiani possiamo ritenerci soddisfatti perché abbiamo visto il calcio che conta siamo arrivati quasi a sfiorare la qualificazione in Coppa UEFA cioè traguardi da fare invidia che nella Puglia tra le tre squadre di Serie A Bari, Lecce e Foggia solo il Foggia è arrivato così in alto perciò sinceramente chi è foggiano non ha nulla da invidiare né a un leccese né a un barese anzi non li pensiamo proprio perché il Lecce e il Bari sono arrivati non più dell'ottavo posto nella classifica di Serie A il Foggia è arrivato sesto nel 92 93 alle ultime due giornate era sesto poi scesi all'undicesimo perché persa le due partite di cui una era combinata perché diedero il rigore al Napoli che non esisteva ci fu un imbroglio enorme un complotto madonnale vabbè tutti sappiamo la verità e poi negli anni 70 vanno da un terzo posto alla decima undicesima giornata perciò la squadra pugliesi che è arrivato più in alto nella storia del calcio pugliese non è il Lecce il Bari è il Foggia ecco perché è la piazza più importante del calcio pugliese perché mai nessuno è arrivato così in alto come il Foggia perciò noi non abbiamo nulla da invidiare né i leccesi né i baresi nella Puglia siamo i numeri uno siamo quelli che abbiamo la storia più importante non per niente abbiamo l'encicopedia pure a Foggia ha giocato due volte alla nazionale siamo l'unica squadra di Sacchi siamo l'unica squadra del sud che ha dato sei elementi alla nazionale di Sacchi dove il primo anno arrivamo c'erano sei foggiani come serbatoio anche dopo dopo la Juventus la Juventus diede sette elementi quando abbiamo vinto la terza coppa del mondo vi ricordate vi ricordate mentre Foggia diede sei elementi l'unica squadra del sud neanche il Napoli quando praticamente arrivamo ai quarti il primo anno e poi arrivamo in finale con Roberto Baggio che sbagliò il rigore sempre due le due nazionali allenate da Sacchi se vi ricordate perciò Foggia poi vi ricordate il grande Foggia nel 65 quando riuscì a vincere con una grande Inter grazie a Padre Pio chissà la verità è inutile che mi dilungo perciò così delle come si dice delle chicche per farvi capire cos'è stato Foggia e cos'è Foggia nel mondo del calcio secondo la gazzetta dello sport è tra le prime 20 realtà calcistiche più importanti d'Italia ed è la terza o quarta realtà calcistica del sud dopo Napoli e Palermo come importanza come prestigio come storia ecco perché mai nessuno ha rifiutato di giocare a Foggia perché Foggia è una piazza per tutti quelli che odiano Foggia che che vogliono sminuire Foggia e i Foggiani mi dispiace ma a questi frustrati non avete ragione perciò cambiate piazza perché con Foggia non ce la fate perché Foggia purtroppo è una piazza importante ecco perciò mi rivolgo a questi frustrati che vogliono sminuire che sono Foggia Foggia non è una piazza molto importante che è una storia da invidiare perciò io questa sera ho voluto ricordare quella noi perdemmo 7 a 1 contro il Porto contro i Luisitani pareggiamo 1 a 1 contro la Sampdoria di Bocsic mi ricordo c'era Viercov io avevo 15 anni e perdemmo 3 a 1 contro il Real Madrid vabbè mi sembra giusto perché avevamo di fronte le squadre più forti al mondo squadre di coppe dei campioni insomma e poi l'unica amichevole che vincemmo 2 a 1 è contro l'Atletico Madrid un'altra squadra diciamo di Madrid che però ha partecipato alla coppa dei campioni però se non erano l'ha mai vinta mentre il Porto e il Real Madrid hanno vinto le coppe dei campioni 14 Real Madrid e il Porto mi sembra 1-2 non vorrei sbagliarmi perciò noi l'unica squadra con cui vincemmo fu l'Atletico Madrid io mi sento onorato di essere Foggiano e di aver fatto parte della storia del Foggia Calcio in questo contesto così seppur di riflesso come spettatore in questo contesto così importante con una storia così affascinante così particolare e così piena di emozioni attualmente meritiamo in Serie C però mi auguro che possa ritornare al più presto almeno in Serie B perché purtroppo si sa che a Foggia la Serie A non la vedranno più i Foggiani perché perché non c'è più un imprenditore ai livelli di Casillo da quando se ne andò Casillo praticamente Foggia poi non è riuscito mai andare oltre la Serie B ma si sapeva però Foggia purtroppo nel bene o nel male è una realtà che va rispettata perché Foggia è tra le prime 20 realtà calcistiche più importanti d'Italia perciò ripeto a tutti quei frustrati che sminuiscono Foggia cambiate piazza perché con Foggia non ce la fate perché Foggia è una piazza importante scripta manen verba voland attraverso le prove attraverso la storia abbiamo anche l'enciclopedia a Foggia come tutte le piazze importanti che parlano di quello che è avvenuto della storia del Foggia calcio ecco mi sento onorato di aver avuto in casa mia dove ho vissuto per 24 anni allo Zaccheria io abitavo quando stavo con i miei genitori vicino allo stadio comunale Pino Zaccheria quartiere camporeale ho visto il Real Madrid cioè il Porto mamma che soddisfazione mamma mia mi sento onorato come Foggiano come pugliese cioè io ho visto giocare il grande Real Madrid ve lo faccio rivedere di Mitchell, Sanchis, Santiliana, Butraquenio perciò come si dice a Foggia in dialetto Foggiano sciacquatevi gli occhi cioè prima di parlare del Foggia insomma pensateci prima di parlare male del Foggia calcio e dei Foggiani pensateci due volte se dice a Foggia sciacquatevi gli occhi perché perché a Foggia ha giocato anche il Real Madrid la squadra più forte di tutti i tempi e quindi perciò sciacquatevi gli occhi carissimi amici perché perché mi rivolgo a quelli che parlano male dei Foggiani e dei Foggia calcio perché non siete degni di Foggia e del prestigio di questa piazza importante dove mai nessuno ha rifiutato di giocare non siete degni buonasera